ho fatto qualche metro di perlustrazione a piedi in quella direzione ho visto che la strada è chiusa quindi ora mi tocca girare a sinistra sperando che continui verso la basilicata attraversando il pollino piano piano indietro è molto irregolare la strada c'è molta ghiaia e tendenza e vediamo se continua se possibile tra 200 metri fare inversione di marcia se possibile fare inversione di marcia a 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 c'è tante strade belle oggi è una bella giornata restiamo sull'estate ma giro piano piano che questa se cade è un problema prima per sollevarla poi perché si graffia e costa ripararla con con l'altra